Oggi ti mostro come realizzare delle bellissime bomboniere bimbo e bimba fai da te decorate con la tecnica del quilling che sono adatte per comunione, cresima, battesimo, nascita o per la ricorrenza che preferisci. Se ti piace uno tutorial come questo ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Decorate con la tecnica del qui... Che sono adatte per le... Che sono... E ti ricordo che puoi iscriviti. Su iscriviti e sulla car... Sì, sulla caramella. Eh, signor... Mmm... Grazie a tutti.